Buongiorno da Stefania Bonomi e ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Fano TV e alla nostra rassegna stampa. Andiamo prima di tutto, come tutti i giorni, a vedere chi è il santo che festeggiamo oggi. Oggi si festeggia San Domenico di Guzman, sacerdote, umile ministro della predicazione. In realtà, realmente un gigante, Domenico di Guzman è una delle figure più straordinarie della Chiesa del Medioevo e di ogni tempo. Affronta con ardore le eresie, fonda e diffonde l'ordine dei frati predicatori, vive con la forza e la grazia di un alter Christus. E vediamo le previsioni del tempo. Sono mattine piuttosto fresche, che da un lato è un po' strano con quello che è stato il tempo dei giorni scorsi, ma fanno comunque anche piacere. Abbiamo una situazione di tempo stabile, asciutto sulle Marche, cielo con nuvolosità irregolare. Le massime sono in aumento, punte fino a 27-28 gradi. Abbiamo un bel tempo previsto per i prossimi giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con temperature che tornano sui 30-31 gradi. Il sole stamattina è sorto alle 6 e 03 e tramonterà alle 20 e 21. E vediamo se riusciamo a collegarci con Edoardo Rubini dello stabilimento da Emilia di Portonovo. Edoardo, sei con noi stamattina? Sì, sono con voi. Buongiorno, buongiorno. Vi sento pochissimo perché non vanno bene le mie... Pensavamo di averti... Ciao, buongiorno a voi. Pensavamo di averti perso a un certo punto perché non... infatti vedi che ho fatto, ho detto, ci collegheremo. Come andiamo allora questa mattina? Eh, infatti vedo che c'è un collegamento. Stamattina è meraviglioso. Non riusciamo a sentirlo. Non riusciamo a sentire Edoardo, Edoardo? Niente, purtroppo sembra che non... proviamo a fare un altro collegamento o andiamo avanti con la rassegna? Bene, allora mi dicono di procedere con la rassegna. Mi dispiace, speriamo domani di riuscire a collegarci, probabilmente ci sono delle condizioni un po' particolari. Allora, apriamo la nostra rassegna stampa. Stamattina la apriamo con il resto del Carlino. Stamattina è l'8 di agosto, è martedì. Vediamo le notizie principali. Allora, abbiamo subito colpa dei lupi, no, del caldo. I caprioli sono sempre meno e i cacciatori fanno gli obiettori. Rinunciamo ad ucciderli. Titolo di testa, ma il sindaco non vuole sposarci. Ne avevamo già parlato nella rassegna di ieri. Riccardo Ceto, coppia di gay, chiede l'unione civile, il primo cittadino. Faccio solo approfondimenti per poi procedere. Ed ancora l'iniziativa del comune, notte delle candele, magliette e regalo presentando il cupone in piazza. La stagione che zoppica, turismo, guerra dei dati, anche il roff va a rilento. Ed ancora vediamo il progetto che aiuta i giovani che non lavorano, si chiama Hype Box. La celebrazione a settembre, il Forlani Day, arriverà anche Casini. E titoli di fondo pagina, abbiamo basket, parliamo di sport, WL con la Virtus, più di un amichevole. Ed ancora calcio, Vis, sarà una serie B2, si comincia con la SPAL. Entriamo nel vivo della notizia di prima pagina, che è quella del turismo sulla guerra dei dati. È un argomento che quest'anno si sta trattando in modo particolare, perché sembra che non ci siano dei risultati aspettati. Turismo, la guerra delle stime negli hotel ancora posti liberi. A Ferragosto è una novità, versione diversa tra albergatori e sindaco. I primi, anche su questo mese, siamo a un meno 10% e persino il Festival del Roff sta soffrendo sul fronte dei biglietti. Ricci invece dichiara in città c'è il pieno. Le versioni sono due su quest'ultima estate che sta infilando l'ultima curva. Da una parte ci sono gli albergatori che stanno lavorando con le reti a strascico per tirare su anche i cosiddetti sardoncini, perché si sta viaggiando intorno a un meno 10% anche su agosto. Dice Fabrizio Oliva di Federalberg ed è un ottimista perché Nardo Filippetti, Excelsior, Nautilus ed ora anche Charlie, l'ex cruiser, quindi il maggiore albergatore della città, giunge a meno 10% firmo subito, ma firmo anche a meno 20%. Sul fronte opposto invece c'è il sindaco Matteo Ricci che corre sulle immagini del film una magnifica annata perché per lui è stata un'estate positiva. La città piena di eventi e per le strade ci sono tante persone. Filippetti dice al momento abbiamo un calo come quello della Sardegna, quindi un meno 40% di prenotazioni. Siamo di fronte ad una stagione che lascerà lacerazioni profonde. Insomma spiagge vuoti e alberghi tutt'altro che pieni tranne che nei fine settimana. Fabrizio Oliva dice chiuderemo in negativo e i conti li facciamo tenendo riferimento il periodo per eccellenza delle vacanze, ossia quello del mese di agosto. Ed ancora il caso che sta facendo discutere il sospirato sì, Hector e Filippo insieme da 8 anni per il sindaco. Noi non possiamo sposarci la storia dei due ragazzi imprenditori agricoli che vivono a Cartoceto e vogliono celebrare un'unione civile. Rossi ci ha detto che non si sarebbe potuto fare perché forse c'erano dei cambiamenti normativi, ma loro affermano noi siamo registrati in comune come coppia di fatto, in buona sostanza siamo già un unico nucleo familiare. E passiamo alle pagine di Fano. Siamo sempre sul resto del Carlino, martedì 8 agosto. Titolo di testa, Fano Sud, niente bypass per la Statale 16. Seri dichiara non ci sono i soldi per la complanare, il singato taglia corto. Pagnetti dice basterà intervenire per migliorare la sicurezza dell'Adriatica, con buona pace delle lenzuolate rosse. La vagheggiata complanare sud, cioè la strada alternativa alla Statale 16, non vedrà la luce, se ne riparlerà forse nella prossima legislatura, se non addirittura in quella successiva. L'ha detto chiaramente il sindaco Massimo Seri. Si spegne così per i cittadini di Metauriglia, Torrette e Ponte Sasso la speranza di trovare un'alternativa alla Statale, segnata in questi anni da tantissimi lutti. Per il sindaco Massimo Seri la complanare sud costa troppo, con il suo costo di 40-50 milioni di euro. I costi della complanare sono troppo alti, fuori dalla portata delle istituzioni locali. Ed ancora, sempre a Fano, Ponte Sasso fa la festa del mare, da giovedì al centro sportivo sociale, con ricavato si finanzieranno le attività ricreative della comunità. Torna così a Ponte Sasso la festa del mare, quattro giornate, quindi da giovedì a domenica, ricche di appuntamenti della buona cucina, musica e attività di intrattenimento. Restiamo a Fano, mura auguste imbrattate e furti nei negozi, scritti in vernice rossa, sono apparse attorno al Torione, intanto ride di balordi al ristorante Gioia e al negozio di frutta e verdura Eusebi, l'ennesimo scempio alle mura romane. Oltre a queste scritte incomprensibili, stamattina c'era anche un grandissimo schifo, tutto intorno, tra bottiglie di birra, lattine e cartacce. Bisognerebbe tutelarlo di più, il patrimonio culturale della nostra città. Da quando il Pincio è più sorvegliato, i vandali si sono riposizionati. Ed ancora, sempre a Fano, Se fumo una canna, Dio che dice? La risposta, shock, del prof di religione Mauro Del Bene si è fermato a parlare con i ragazzi del poderino da tempo al centro di episodi di teppismo. Egli ha detto, se ciò ti rende felice, per il signore non può essere un problema. Così ha detto provocatoriamente. E ora si sfida il quartiere. Se per essere felici in questo momento può essere buono, fatti una canna. Perciò Dio non costituisce nessun problema. Chi è l'adolescente del poderino? Domanda a tutti, invitando a conoscerli, a fermarsi, a parlare con loro, come ha fatto lui in questi mesi. E dopo arrivi a aver riflettuto sul fatto che per lui il problema non è da identificare nel gruppo, ma è la trasversione di qualcuno che va oltre. Il mestiere degli adolescenti è rompere gli schemi, respingendoli li perderemo. Vabbè, però anche dire magari fatti una canna non è magari proprio la via giusta, però procediamo con la nostra rassegna stampa. E siamo a Fano e Valcesano. I ladri castigano anche i turisti. Ride negli alloggi estivi a Marotta. Scorriband alla Casa delle Fragole per i banditi hanno puntato su appartamenti a Mondolfo e a Fano. Quattro colpi messi a segno e un quinto tentato. Ride di furti nella notte di sabato tra Fano Marotta e Mondolfo pendolare del crimine stando ai primi indizi, per un bottino totale di qualche migliaia di euro. E vediamo cosa succede a Durbino. A Durbino si parla di bus in piazza. Dopo le ore 17 e 50, Gambini tiene la porta aperta. Il sindaco al momento non arretra, ma ipotizza anche di mettere una corsa della linea 3. Dobbiamo tutelare il centro storico, che è Patrimonio Unesco. e poi c'è anche Urbibus. Ci spostiamo a Fossombrone, siamo sempre sul resto del Carlino. Vecchia Flaminia, lavori, crollo delle presente, situazione disperata per le attività che si trovano nel tratto bloccato. Il caso del vecchio chiosco, stima di calo pari al 70%. Mauro Rossi dichiara per noi è un vero salasso, però dobbiamo continuare a pagare tasse e spese di gestione. Chiudiamo il resto del Carlino e andiamo alla rassegna stampa del Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico oggi inaugura la sua pagina principale con la città alla sua Agora Ricci. inaugura il nuovo piazzale d'annunzio. Riprogettare il lungomare spetterà al prossimo sindaco. Il presidente degli albergatori dichiara un mese di ritardo. Dobbiamo assolutamente correre per recuperare i turisti. Ed ancora abbiamo nelle Marche pioggia record in sette mesi, siamo già al più 40%. Brevi di cronaca, Fossombrone, violento acquazzone, un albero crolla su un'auto in transito. Cartoceto, il sindaco Rossi, nessuna esitazione, unirò la coppia gay. E qui riprendiamo l'articolo che abbiamo già trovato sul resto del Carlino. Marche, all'ufficio scolastico, arriva una donna al posto di Filisetti, fondo pagina, pestato nell'abitazione davanti alla compagna a San Lorenzo in campo, pensionato, ricoverato in ospedale, aveva aperto la porta al suo giovane aggressore. Ed andiamo nel vivo della nostra rassegna stampa, siamo a Pesaro, riprendiamo il titolo di prima pagina, era una rotonda con un palo, adesso finalmente è un agorà. Ricci inaugura il nuovo piazzale d'annunzio, rivedremo lungo a mare, ma per questo lo farà il prossimo sindaco. L'APA, un mese di ritardo, ora sfruttiamo agosto, naturalmente, per attirare i turisti. passiamo alle pagine di Fano, 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 quella lapide da correggere, c'erano coperte e moschetti, questa è la storia di Francesco Bacchiocchi, che fu testimone nel 1943 dell'uccisione di un 14enne e di un bambino. Il prossimo 23 settembre saranno passati 80 anni dalla morte di Temistocle Paolini, 8 anni, e Renata Marconi, 14 anni uccisi da un soldato tedesco, che all'epoca dell'occupazione nazofascista sparò sulla folla intenzionata a entrare nella dependenza della caserma Montevecchio per appropriarsi di beni di prima necessità. Il tragico evento è proprio ricordato con una lapide affissa sul muro che costeggia via Sebastiano Ceccarini nei pressi del recapito fanese dell'azienda sanitaria. Tuttavia, quanto scritto su quella lapide non è esatto e deve essere rivisto, lo chiede per esattezza storica Francesco Bacchiocchi, che fu testimonio oculare di quel tragico episodio in quel lontano pomeriggio del 23 settembre del 1945. Allora, pensate, aveva solo 13 anni. La lapide riporta che in quel luogo un militare dell'esercito tedesco ha sparato contro la folla che chiedeva cibo e vestiario. Due ragazzi fanesi sono stati colpiti a morte. In realtà, afferma Bacchiocchi, la folla aspirava a ben altro. Non si cercava cibo che non c'era, né tantomeno vestiario. Si cercavano invece scarponi, materassi, coperti e moschetti. Questa è la storia che viene raccontata. Ed ancora sulle pagine di Fano un ponte che unisce così ricorderemo viaggio, scoperta la targa per il bagnino che si sacrificò per salvare i turisti. Restiamo a Fano, Sant'Agostino da riscoprire visite guidate ogni weekend programmate dal comune dal venerdì alla domenica convenzione con la diocesi. D'ora in avanti i cosiddetti scavi di Via Vitruvio, l'area archeologica più interessante e suggestiva della città, saranno più fruibili al pubblico. Nella giornata di venerdì scorso infatti è stata sottoscritta dal sindaco Massimo Seri una convenzione per incrementare l'apertura al pubblico dell'area epogia di Sant'Agostino le cui strutture archeologiche insistono sul complesso territoriale di proprietà diocesana. Nell'area epogia importanti resti romani già attribuiti a Vitruvio al tempo della fortuna. Tempio, scusate. Ed ancora grande successo per la festa del mare 1200 rustite un lavoro di squadra Lucarelli è soddisfatto e come abbiamo detto ieri che non sapevamo qual era la data dei fuochi che sono stati rinviati i fuochi sono stati rinviati al 26 di agosto. E vediamo cosa succede in Valmetauro Valmetauro albero crolla per la pioggia e cade su un'auto in transito violento acquazzone tra Mondavio e Fossombrone sotto shock il conducente che fortunatamente è rimasto illeso. Valcesano apre la porta di casa all'aggressore malmenato davanti alla compagna un pensionato ricoverato all'ospedale di Urbino esclusa la rapina il movente però resta ancora un rebus i carabinieri hanno avviato l'inchiesta ascoltando le donne e i vicini ci spostiamo a Urbino a Urbino il nostro turista è esigenze vuole servizi e accoglienza Scaramucci conferma le difficoltà di una stagione in salita anche per Urbino siamo poco attrattivi rispetto ad altre località che oggettivamente sono meno belle ed ancora la vigilanza fermato per un controllo in per un controllo in auto aveva due coltelli l'uomo è stato denunciato dai carabinieri per porto d'armi abusivo in un normale controllo sulle strade di Montecchio spuntano due coltelli è successo l'altra sera i carabinieri della stazione di Vallefoglia hanno effettuato una serie di verifica all'auto per il controllo del territorio e il rispetto delle regole della circolazione come spesso accade quando fanno i controlli di routine proprio durante uno di questi halt che si è fermato un 41enne italiano residente a Vallefoglio che ha dimostrato subito dei piccoli segni di nervosismo alla richiesta dei documenti così i militari oltre alla verifica della carta di circolazione hanno approfondito la perquisizione e hanno trovato due coltelli a serramanico che non dovevano e non potevano essere sul mezzo Senigallia Giambore un'edizione da record boom social 3,3 milioni di utenti migliaia le presenze in città gli organizzatori sono entusiasti il sindaco ora caccia ai fondi per il 2024 come sempre il Giambore si rivela una manifestazione molto bella e molto importante che viene si svolge tutti gli anni a Senigallia il popolo del rock and roll è arrivato a Senigallia da ogni parte del mondo e si è conclusa così la 23esima edizione del Summer Giambore che ha superato le aspettative e molti dei record fino ad ora raggiunti torniamo a dare qualche notizia anche sportiva io mi sono persa lo sport scusate torniamo sul corriere adriatico restiamo sul corriere adriatico sport allora per quanto riguarda la serie C vis avviso intenso e derby a Raffica la squadra di Biancheri affronterà il debutto in trasferta contro la Spalla a ottobre invece le attese sfide contro Fermana ancora e Re Canatese e sempre serie D restiamo sul calcio Fano Mancini contro Russo la nuova società in Alto Mare l'imprenditore avevo preparato il bonifico poi l'ho bloccato dopo la pagliacciata di cacciare Ronca e i giocatori il sindaco Seri ha contattato entrambi per capire meglio gli sviluppi di questa vicenda ed ancora Vigor serie D la società ha stop al mercato la società ha comunicato che le operazioni in entrata sono ora terminate intanto la squadra si prepara all'amichevole di domani contro la Re Canatese e ancora una notizia sempre del Corriere Adriatico per la giornata di oggi oggi c'è il concorso di auto storiche in Piazzale della Libertà dalle Ferrari alle Maserati per Epoca by Night si svolge a Pesaro l'appuntamento è dalle 17 alle 23 e 30 questa sera in Piazzale della Libertà con Epoca by Night Chevrolet Maserati Ferrari 500 Porsche e tante altre auto che hanno segnato la storia saranno tutte in mostra alla palla presso la palla di Pomodoro per la quarta edizione dell'evento il programma prevede tra le 15 e le 17 l'arrivo delle auto in Piazzale della Libertà tra le 17 e le 19 la possibilità di fare una visita guidata a Casa Rossini e ai musei civici dalle 21 alle 21 e 15 si terrà la presentazione della manifestazione ed interventi del Comitato d'Onore tra le 21 e 15 e le 23 le auto verranno spostate dal Prato verso la piazza per la presentazione al pubblico tra le 23 e le 23 e 30 è prevista la premiazione della Best of Show e di tutte le categorie che saranno in tutto 10 con questa notizia io chiudo la rassegna stampa di oggi naturalmente vi saluto vi auguro una buona giornata e vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione sarà questa sera alle 20 e 30 grazie buona giornata a